il problema che vogliamo andare a risolvere è il problema cosiddetto di distanza di primo impatto o distanza di primo rimbalzo ossia si è dato un cuneo e si è data una pallina ad una determinata distanza da questo cuneo la pallina cade tocca il terreno in un primo punto dopodiché vi rimbalza e toccherà il terreno in un secondo punto si chiede quanto vale questa distanza di la nostra incognita e di i dati che vengono forniti dal problema sono l'angolo del cuneo teta pari a 45 gradi y quarti viene fornita l'altezza da cui cade la nostro grave ossia un metro e viene fornita l'accelerazione di gravità g uguale a 9,81 metri al secondo quadro in modulo ed è rivolto ovviamente verso il basso per riuscire a risolvere il problema dobbiamo scomponere questo in tre parti e procediamo nel modo seguente costruiamo alcune parti a livello grafico per risolvere il problema lo suddividiamo in tre parti indipendenti la prima parte consiste nella caduta e utilizzeremo il teorema di conservazione dell'energia per trovare quella che è la velocità finale nel secondo caso utilizzeremo per risolvere il problema del rimbalzo le regole dell'urto elastico l'ultima parte per risolvere il problema e quindi trovare la distanza t utilizzeremo le regole del moto parabolico nel fare questo faccio anche notare che scelgo fin dall'inizio un sistema di assi cartesiani x y dove x è scelto nella direzione del cuneo quindi tangente alla linea inclinata del cuneo mentre y risulta essere ortogonale x e quindi normale alla superficie inclinata del mio cuneo punto 1 risoluzione del problema della caduta teorema di conservazione energia mi dice che energia cinetica più potenziale nel punto iniziale devono essere uguali l'energia cinetica più quella potenziale al punto finale l'energia cinetica t è uguale un mezzo mv quadro mentre l'energia potenziale sarà mg per h benissimo nel punto iniziale la mia pallina si trova qui non abbiamo informazioni sul problema possiamo supporre che la velocità all'istante iniziale quindi a t uguale 0 sia nulla di conseguenza non ci sarà energia cinetica l'energia potenziale al contrario sarà massima poiché sarà nel punto più alto e quindi sarà uguale ad mgh quando la pallina arriverà in fondo avrà una determinata energia cinetica un mezzo m velocità finale al quadrato l'energia potenziale trovandosi in questo caso ad altezza minima cioè 0 non avrà altezza e quindi non avremo energia potenziale da qui deduciamo che la velocità finale attenzione prima dell'urto non è altro che 2gh sotto radice in questo modo abbiamo risolto la prima parte del problema per la seconda parte del problema quello dell'urto elastico è necessario una piccola costruzione geometrica quello che notiamo è che la pallina seguirà la linea tratteggiata arrivando ad urtare il nostro cuneo in questo punto qua dalla costruzione notiamo che se questo è l'angolo del cuneo questo è il suo angolo complementare di conseguenza questo sarà l'angolo complementare angoli reciproci e siccome questa linea costruita precedentemente era ortogonale al piano questo angolo deve valere teta siccome l'urto della pallina è tra la massa m1 della palla è la massa m2 che è la massa del cuneo però la nostra massa del cuneo è molto maggiore della massa della pallina e il nostro cuneo quindi la velocità del nostro cuneo iniziale non è stata dichiarata ma possiamo chiaramente assumerla ferma quello che ci dice è che la nostra pallina dopo l'urto avrà una velocità pari a quella prima dell'urto ossia velocità finale uguale a 2gh sotto radice ma la sua direzione sarà quella dell'angolo teta ossia avrà compiuto un urto elastico e simmetrico rispetto alla normale del nostro piano quindi teta e teta avendo quindi la velocità finale con lo stesso modulo ma in questo caso la seguente direzione e allora diventa semplice pensare di proiettare la nostra velocità nelle due direzioni che avevamo scelto prima ossia lungo la direzione y e lungo la direzione x identificando la velocità finale lungo x e la velocità finale lungo y e questo non risultano altro che le proiezioni trigonometriche della velocità finale e avremo dunque punto abbiamo risolto quello che la seconda parte del problema ossia il rimbalzo e l'urto elastico e possiamo entrare nel terzo punto che è il moto parabolico nuovamente un piccolo costrutto che era già stato anticipato in precedenza come nel caso precedente cerco di proiettare g lungo la direzione parallela al piano ossia la direzione x e nella direzione perpendicolare ossia y e grazie alle relazioni trigonometriche identiche a quelle precedenti riesco a trovare che l'angolo formato tra g e g di y è esattamente teta ossia l'inclinazione del cuneo quindi non mi resta che proiettare che siccome g di y è rivolto verso il basso mentre il nostro asse y è rivolto verso l'alto ho aggiunto un segno meno nella componente dell'accelerazione lungo x a questo punto non mi resta che scrivere le equazioni del moto lungo la direzione x e lungo la direzione y scegliendo in maniera coerente un sistema di riferimento che abbia l'origine degli assi dove la pallina rimbalza posso eliminare queste due quantità noto che v0x e v0y in realtà le conosco perché v0x non è altro che la quantità che avevo chiamato v finale x e v0y in maniera del tutto analoga e v finale y le accelerazioni sono quelle che ho calcolato in precedenza quindi per calcolare la distanza che percorso devo calcolare il tempo di volo ossia dove y dato un determinato tempo di volo è uguale a 0 ossia devo calcolare però la soluzione banale ossia che il tempo di volo è uguale a 0 ma questo era nell'origine e questo lo sapevamo già e poi troverò che il tempo di volo è in realtà lo 0 della parte tra parentesi e in questo caso sarà uguale a 2 v0y diviso g di y e a questo punto non mi resta che sostituire il tempo di volo dentro x di t facendo un pochettino di algebra trovo che il risultato finale è 8 volte l'altezza per il seno di teta e quindi la mia distanza che non è altro che x calcolato nel tempo di volo non è altro che 8 per un metro per il seno di pi greco quarti ossia non è altro che 8 mezzi radice di 2 4 radice di 2 ossia è 5,66 metri